Ciao, oggi facciamo polpette. Avete bisogno un punto la carne, due uove, un pizzico aglio, un pizzico pepe, un pizzico sale, mette tazza a bricole di carne, prima mette la carne in cittola, spette la uova in uno cittola la parte. Aggiungi i cittoli di carne in un pizzico, un pizzi del sprechen, rivoli, un pizzi 적he, un pizzico aglio un pizzico pepe il sale si mescolate ricco di pane e formaggio si mescolate Dobbo, famare della colline di carne. La colline di carne è raffreddata, La colline di carne è raffreddata, e la colline di carne è raffreddata. A presto. Si fridgete le polpette affin al loro sono a friggere. Dopo mette il polpette in salsa. E mangia. Buon appetito.